Il NURS in the Teramo, il sindacato delle professioni infermieristiche, torna a sollevare il problema della carenza di personale nell'ASL di Teramo in relazione alle nuove norme sul riposo e orario di lavoro. Dal novembre 2015, come è noto, è entrato in vigore il Decreto-Legge 66-2003 in attuazione delle direttive europee che disciplinano l'orario di lavoro. Il decreto stabilisce tra l'altro il limite massimo di 12 ore e 50 minuti al giorno e l'obbligo di 11 ore di riposo tra un turno di lavoro e l'altro. Disposizioni aziendali stabiliscono inoltre che i coordinatori infermieristici organizzino i turni entro il 20 del mese. Ma questi si trovano in forte difficoltà a coprire i turni nel rispetto delle norme perché la carenza di personale ha raggiunto i livelli di vera e propria emergenza. Sono due le conseguenze dirette di questa situazione, dichiara Giuseppe De Zold, segretario provinciale del NURS in the Teramo. La prima ricade sui pazienti perché l'ASL di Teramo non ha personale a sufficienza per assicurare una corretta continuità assistenziale. L'altra colpisce il personale. A questo riguardo la norma impone alle aziende di riorganizzare, cioè come estrema razza o perfino chiudere i servizi che non riescono a garantire, per assicurare la tutela del personale e i livelli minimi, eppure si continuano ad inaugurare servizi senza incremento del personale a disposizione. La scena della coperta corta si ripropone. Per coprire un servizio se ne scopre un altro. I dipendenti pagano il conto più alto. Sono in costante aumento le problematiche correlate allo stress lavorativo, prosegue il segretario De Zold. La situazione non è più sostenibile, ma nonostante sia sotto gli occhi di tutti, non sembra esserci una concreta volontà di trovare una soluzione. Il decreto 49 del 2012 del commissario ad acta sulle dotazioni organiche delle ASL indica il numero minimo di personale nelle unità operative, ricorda De Zold. Le linee guida però non sono mai state rispettate in alcun reparto. L'ASL di Teramo è quella con meno personale in organico tra tutte le ASL abruzzesi. Secondo i calcoli effettuati in passato dal nursing, tra infermieri e operatori sociosanitari mancano circa 600 unità. Quei numeri sono ormai superati e la situazione è a oggi ulteriormente peggiorata.